Il treno regionale, 2501, di Trenitalia, proveniente da Trento, è diretto a Borgo Valsugana Est, delle ore 5.39, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a San Bartolameo, Villa Zano, Povo, Pergine, San Cristoforo al Lago Ischia, Calcerannica, Caldonazzo, Levico, Roncegno, Bagni Marter, Borgo Valsugana Centro. Il treno regionale, 2521, di Trenitalia, proveniente da Trento, è diretto a Padova, delle ore 6.09, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a San Bartolameo, Villa Zano, Povo, Pergine, Calcerannica, Caldonazzo, Levico, Roncegno, Bagni Marter, Borgo Valsugana Centro, Borgo Valsugana Est, Strigno, Grigno, Tezze di Grigno, Primolano, Cismon del Grappa, San Marino, San Nazario, Solagna, Bassano del Grappa, Cittadella, Campo San Piero. Il treno regionale, 5831, di Trenitalia, proveniente da Trento, è diretto a Bassano del Grappa, delle ore 6.09, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a San Bartolameo, Villa Zano, Povo, Pergine, Calcerannica, Caldonazzo, Levico, Roncegno, Bagni Marter, Borgo Valsugana Centro, Borgo Valsugana Est, Strigno, Grigno, Tezze di Grigno, Primolano, Cismon del Grappa, San Marino, Carpaneval Stagna, San Nazario, Solagna. Il treno regionale, 2500, di Trenitalia, proveniente da Borgo Valsugana Est, è diretto a Bolzano, delle ore 6.52, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Trento, Mezzocorona, ora. Il treno regionale, 5713, di Trenitalia, proveniente da Trento, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 8.09, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a San Bartolameo, Villa Zano, Povo, Pergine, San Cristoforo al Lago Ischia, Calcerannica, Caldonazzo, Levico, Roncegno Bagni Marter, Borgo Valsugana Centro, Borgo Valsugana Est, Strigno, Grigno, Tezze di Grigno, Primolano, Cismon del Grappa, San Marino, Carpaneval Stagna, San Nazario, Solagna, Bassano del Grappa, Cassola, Castello di Godego, Castelfranco Veneto, Piombino Adese, Noale Scorzae, Salzano Robegano, Maerne di Martellago, Spinea, Venezia Mestre, Venezia Porto Marghera. Il treno regionale, 25.09, di Trenitalia, proveniente da Trento, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 8.09, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a San Bartolameo, Villa Zano, Povo, Pergine, San Cristoforo al Lago Ischia, Calcerannica, Caldonazzo, Levico, Roncegno Bagni Marter, Borgo Val Sugana Centro, Borgo Val Sugana Est, Strigno, Grigno, Tezze di Grigno, Primolano, Cismon del Grappa, San Marino, Carpaneval Stagna, San Nazario, Solagna, Bassano del Grappa, Cassola, Castello di Godego, Castelfranco Veneto, Piombino Adese, Noale Scorzae, Salzano Robegano, Maerne di Martellago, Spinea, Venezia Mestre, Venezia Porto Marghera. Il treno regionale, 2531, di Trenitalia, proveniente da Bolzano, è diretto a Bassano del Grappa, delle ore 16.09, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a San Bartolameo, Villa Zano, Povo, Pergine, San Cristoforo al Lago Ischia, Calcerannica, Caldonazzo, Levico, Roncegno Bagni Marter, Borgo Valsugana Centro, Borgo Valsugana Est, Strigno, Grigno, Tezze di Grigno, Primolano, Cismon del Grappa, San Marino, Carpaneval Stagna, San Nazario, Solagna. Il treno regionale, 5842, di Trenitalia, proveniente da Padova, è diretto a Trento, delle ore 18.22, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 2536, di Trenitalia, proveniente da Borgo Valsugana Est, è diretto a Trento, delle ore 18.52, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Il treno regionale, 5726, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Trento, delle ore 20.22, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 2542, di Trenitalia, proveniente da Bassano del Grappa, è diretto a Trento, delle ore 21.22, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. 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 Grazie a tutti.